Signore e signori benvenuti in questo nuovissimo video, oggi speciale di Capodanno, ovviamente auguriamo a tutti voi un buon 2017. Prima di lasciarvi alla intro e al video tengo a precisare tre cose. La prima è che qualche clip è stata registrata col telefono, quindi vedrete la striscia in verticale e non in orizzontale. La seconda, come dirò dopo, che dirò che questo speciale tratterà di tutte le volte che abbiamo visto l'Inter, ovviamente l'Inter è inteso come squadra, quindi tutti i componenti dell'Inter. La terza e l'ultima è che prima di ogni clip dopo troverete il link del video completo della clip, appunto. Quindi adesso non perdo altro tempo, mi raccomando guardatevi tutto questo video, se volete passate anche dagli altri. Mi raccomando guardatelo tutto e buona visione. Ciao a tutti i Cinerazzurri, oggi siamo qua per un speciale di Capodanno, che dire buon anno a tutti. Buon 2017. Buon 2017, sperando che l'Inter ci porta tante emozioni e tante vittorie importanti. E nel 2016, certo, non ci ha portato. Non ci ha portato, abbiamo vinto sì partiti importanti, ma non abbiamo vinto il Dopey, purtroppo, e quindi poche emozioni nel 2016. Con l'arrivo di Swing a giugno si pensa ad un grandissimo mercato, perché saranno tolto i paletti di altri spai finanziario. Quindi speriamo che sia buon 2017 per tutti i nenteristi e quindi ancora buon anno a tutti. E per questo speciale abbiamo deciso di fare una piccola clip di tutte le volte che abbiamo visto l'Inter da vicino. Quindi godetevi tutta la clip e buona visione. Mi raccomando, sempre forza Inter. Grazie a tutti. Quarta, Ivan. Diva, altissima. Altissima. Allora, andiamo, 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 andiamo. Sì Foto Grande Eric Zanchino Eric Eric Foto Foto veloce Fast Forza Inter Grande Vai Marcelo Vai Antonio Vai Dani Vai Joao Dai Andre Oh dai Mauro Farsi sognare Mauro Dai Pitbull Grande Samir Vai Ever Rodrigo Vai Kondo Vai Iovo Vai Ivan Dai Ivan Grande Bianco Dai Tchau Mister Dai RH Joao Foto Grazie a tutti 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 Andiamo su Grande Andre Grande Pitbull Grande Rodrigo Siamo trovati i cardi davanti Vai Antonio Vai Geoffrey Vai Samir Vai Tiago Vai Gabi Vai Gabi Grazie a tutti Vai Vai Mauro Vai Mauro Dal fantacalcio giù da poco Vai Brogio Vai Bro Vai Eterne Vai Antonio Vai Danilo Vai Samir Vai Stevan Vai Yuto Vai Rodrigo Vai San Vai Cristian Vai Evert Vai Evert Viantevi Ciao a Pablo Vai Davide Vai Davide Vai Davide Vai Davide Vai Davide Vai Davide Vai Miang Vai Frank Vai mister Vai mister Grazie Grande Frank Resta Milano Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grande mister Grande mister Grazie 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 Ragazzi Dai raga Forza Troia Grazie Ciao Ciao Christian Ciao 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 Fane due Fane fare due Vai Va bene a questo Mettiti lì dove c'è lì, sulla giacca nera Fane fare due io non ho tutto sotto le mani, se non ho il testo che ne ho qui stiamo quello lì è qui fanno fare due vai a vedere chi è io vado a dire chi è? va nega? grande al centro sportivo murillo grande jason bravo jason bravo 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 grande jason fatti fatti vedi gol! porco giuda! c'è neanche... vieni qua Lalli facci la foto Samu, l'autografo Danilo, grande Danilo! Danilo D'Ambrosio solo, solo Tavrofo adesso speriamo che si fermano vai vai, bisogna andare lì subito ciao Danilo, forza Inter, forza Inter vai Marco una foto? e niente, questo era il nostro video speciale di Capodanno auguriamo ancora a tutti voi un buon 2017 se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione e ovviamente forza Inter grazie a tutti